Siamo presenti con tutti e due cori della polifolica lusulgese Claudio Monteverdi, il coro di voci bianche e il coro degli adulti. I cori sono direi che il maestro Salvatore Casu e saremo accompagnati da Tenoforte e da Thomas Sanna. Ciascun coro canterà otto brani, che sono tutti i canti natalisti. Il primo coro che si esibirà sarà il coro di voci bianche, poi canterà il coro degli adulti. Io mi approfitto adesso a nome della polifolica per rinnovarvi gli auguri di Natale, per augurarvi un buon anno nuovo, buona 2014 e vi auguro anche buon ascolto. Grazie. 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 Grazie per a tutti. Grazie. Grazie. Tolle zoom. Grazie a tutti 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 Buon anno Grazie a tutti